La riapertura delle scuole potrebbe essere posticipata al dopo elezioni. La riapertura il 14 settembre è una data sempre più improbabile. L'aumento dei contagi in regione Campania e la percentuale bassa del personale delle scuole che si è sottoposta al tampone sono gli indici di valutazione che hanno portato il governatore della Campania Vincenzo De Luca a fare una serie di analisi della situazione covid. La settimana prossima dopo aver valutato i numeri del personale scolastico che si è sottoposto al test per il covid potremmo avere idee più chiare relativamente all'apertura delle scuole e per questo ancora una volta il presidente De Luca ha fatto appello al personale scolastico che ha già dato prova di eccezionale responsabilità. Chiedo ai docenti di fare uno sforzo addetto di sottoporsi tutti al controllo seriologico a cui dovrà far seguito poi un controllo con il tampone. È inaccettabile ha continuato De Luca la decisione del governo sullo screening facoltativo per il personale scolastico. In Campania ci sono 200 mila dipendenti nelle scuole pubbliche e private se abbiamo una media del 10% di positivi significa 20 mila persone. Parliamo di numeri importanti quindi per dare sicurezza alle famiglie dobbiamo garantire che il personale sia stato controllato seriamente. Il mio messaggio è di serenità ai nostri concittadini stiamo facendo di tutto per andare a cercare noi i positivi e dobbiamo farlo oggi nell'ambito di un piano per la sicurezza e la prevenzione che prevede anche altre cose. Prevede la possibilità per fare in Campania fino a 10 mila tamponi al giorno. Abbiamo potenziato i laboratori che devono lavorare i tamponi. Credo che faremo assunzioni straordinarie nelle prossime ore per potenziare i dipartimenti di prevenzione sui territori. Voglio fare appello a chi viene dall'estero a non andare presso gli ospedali a fare i tamponi ma rivolgersi all'AS. Ovviamente dobbiamo individuare poi i singoli focolai, vi ho detto di questa azienda agricola nella Piana del Sele. Abbiamo spendo un focolaio che si era determinato a Sant'Antonio Abbate di alcune decine di contagi nell'ambito di una struttura turistica sonrisa e così via. Questo è il lavoro che è pienamente in corso e dobbiamo stringere i denti per i prossimi 10-15 giorni perché avremo in questo periodo l'ondata maggiore di arrivi dall'estero e quindi di contagi da individuare. Allora tranquillità per tutti, serenità ma anche consapevolezza che siamo entrati in una fase delicata che richiede il massimo di attenzione da parte di tutti. Io ne approfitto per chiedere appunto ad ogni nostro concittadino un'attenzione rinnovata. Indossiamo le mascherine sempre. Ovviamente in maniera obbligatoria quando si neanche i locali chiusi, quando vi sono assembramenti, ma indossiamola sempre. Laviamoci le mani, evitiamo comportamenti di scarsa responsabilità per fare in modo che il piano sicurezza nel quale siamo impegnati con i rientri sia efficace e ci consenta di contenere nell'arco del prossimo mese i contagi nella nostra regione. La regione sta acquistando 1.500 termoscanner che daremo gratuitamente ai dirigenti scolastici che volessero fare, come io mi auguro, la misurazione della temperatura agli alunni al di là di quello che si fa a casa. Terzo problema, il risolto problema delle aule. Ad oggi noi non sappiamo se vi sono le aule sufficienti per garantire il distanziamento. I comuni mi hanno mandato la lettera, i comuni e la campania, per chiedermi di postecipare l'inizio dell'apertura dell'anno scolastico, perché non hanno le risorse per fare i lavori di sanificazione. Chiariamo anche questo. L'unico compito che ha la regione in relazione all'anno scolastico è quello di fissare la data di apertura, ma tutte le responsabilità di merito sono dei comuni, delle province e del Ministero della pubblica istruzione. Quindi voglio dire ai sindaci che mi hanno scritto che noi valuteremo in maniera definitiva sull'apertura dell'anno scolastico da qui a una settimana, quando avremo le certezze rispetto a questi nodi che sto segnalando. Personale, screening al personale docente, misurazione di temperature, aule disponibili e così via. C'è un ultimo problema che è quello che riguarda il trasporto scolastico. Si sta discutendo in queste ore. Anche se autorizzano a riempire per il 70% gli autobus, c'è sempre una carenza di mezzi per il trasporto scolastico. La proposta che fa la Regione Campania, al di là delle partite finanziarie che riguardano le aziende, è quella di autorizzare da parte del Governo nazionale e di attribuire le risorse economiche conseguenti a autorizzare le aziende di trasporto a fare anche degli accordi con il trasporto privato, con gli NCC, con chi ha gestito i pullman con i quali si facevano le gite scolastiche, per aumentare il numero dei mezzi per il trasporto scolastico.